Buonasera a tutti da Economia per i cittadini, io sono Simone Esposito, siamo qui con Diego Fusaro, ricercatore all'Università Vita Salute San Raffaele qui a Milano per una breve intervista sui temi economici e di dottrine politiche e filosofici. Giacomo Bracci che con noi è ricercatore del gruppo economico di Economia per i cittadini, farà domande di tipo economico e passo subito la parola a lui. Spesso si sente parlare di neoliberismo, in che senso il neoliberismo ha annientato le classi sociali precedenti, cioè borghesia e proletariato? E in tutto questo che ruolo ha l'integrazione europea e l'euro? Sì, oggi stiamo vivendo nell'epoca del neoliberismo scatenato, nel senso che il neoliberismo ha annientato la politica totalmente. Il neoliberismo è quel dogma in nome del quale tutto deve essere sottomesso alle leggi economiche viste come indubitabili e non discutibili. La condizione neoliberale di cui siamo abitatori ha distrutto le precedenti classi, nel senso che, secondo la mia ricostruzione almeno, dal 1968 ad oggi siamo entrati in una nuova fase di capitalismo che io, seguendo le analisi di Costanzo Preve, chiamo capitalismo post-borghese e post-proletario. Cioè il 1968 ha annientato la precedente forma del conflitto, ha annientato la borghesia come classe capace di una coscienza infelice, tale da contestare al capitalismo stesso in nome dell'emancipazione umana. Non dimentichiamo che Marx era un borghese anticapitalista, ma poi ha annientato sempre il capitalismo e la borghesia anche nel senso dell'etica del limite borghese. L'etica borghese era un'etica basata sul giusto limite, in certa misura. Aveva un'etica religiosa, aveva un'etica della misura, aveva dei costumi etici, l'eticità messa a tema da Hegel. Il 1968 ha spazzato via tutto questo, in nome di slogan come non esiste l'autorità, vietato vietare, godimento illimitato, tutti i slogan che seppure nel 1968 potevano avere anche e sicuramente avevano nella coscienza degli attori sociali del tempo una loro portata emancipativa, si sono poi alla lunga rivelati puramente integrabili nel sistema neoliberale che appunto è quello in cui la merce domina incontrastata, il valore di scambio domina il limitato e tutto viene riportato alle leggi del mercato, dove appunto non esiste alcuna autorità, tutto è vietato vietare e al tempo stesso l'unica legge che domina è quella del godimento cinico e acefalo, per cui paradossalmente si è eliminata la borghesia come freno a un capitalismo totalmente sviluppato, dove appunto il capitalismo pienamente sviluppato della condizione neoliberale è quello in cui la forma merce si estende illimitatamente senza più alcuna misura e alcun limite, limiti che invece la cultura borghese pur contraddittoriamente ancora aveva. La situazione neoliberale è appunto questa, una situazione profondamente malinconica come è stato detto, nel senso che si avverte la perdita di qualcosa e ciò di cui si avverte la perdita è essenzialmente la politica come tecnica, come arte in grado di disciplinare l'economico, come tecnica reggia, diceva Platone nel politico, basiliche, tecniche, la tecnica reggia che tiene insieme l'ordito sociale che se abbandonato a se stesso precipita in quella disgregazione totale che si ha quando si producono le disuguaglianze più oscene o quelle che Platone nel politico chiama il mare infinito della disuguaglianza. Attenzione, non soltanto la borghesia è stata eliminata, è stato eliminato anche il proletariato, non nel senso che non vi siano più gli sfruttati, oggi vi sono più che mai gli sfruttati, in forme peraltro sempre più indecenti e più oscene, ma è venuto meno il proletariato nel senso che si è glissata quella classe unitaria dotata di una coscienza oppositiva e rivendicativa antitetica rispetto al capitalismo. L'odierna classe precaria, che è infinitamente più estesa di quella proletaria di una volta, manca di una coscienza di classe, avrebbe detto Lukács. Bisognerebbe oggi riscrivere il capolavoro di Lukács intitolandolo Storia e coscienza del precariato. Qual è la coscienza che ha di sé il precariato? Dal mio punto di vista è molto debole, il precariato ancora non ha maturato una coscienza di classe precisa e credo che uno dei compiti per i prossimi anni sarà di continuare la critica dell'economia politica sviluppata da Marx in questa direzione. Like a pendulum I swing from which I come